Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video Oggi vi mostro qualcosa inerente all'autunno Vi mostro un mio outfit autunnale Cosa indosso principalmente in autunno, cosa amo E vi mostro anche un make up autunnale Che diciamo che bene o male utilizzo tutti i giorni Super semplice, super delicato Ma con un tocco glamour, come si suol dire Questo è un video super speciale perché è in collaborazione con una ragazza super dolce Lei si chiama Martina, link qua sotto in infobox del suo video e del suo canale Finito di vedere questo video, andate subito nel suo canale a vedere il suo video e le sue proposte Perché è veramente super brava È una ragazza super dolce, veramente quando parla è super dolce, tenerissima Quindi vi consiglio di andare a vedere i suoi video E niente, vi lascio alla mia proposta e spero vi piaccia E niente, vi consiglio di andare a vedere il suo canale a vedere i suoi video E niente, vi consiglio di andare a vedere i suoi video E niente, vi consiglio di andare a vedere i suoni video andate E niente, vi consiglio di andare a vedere i suoni ovvilgiomini Chi sabato ci si difficà E niente, vi consiglio di andare a vedere i suoni volle Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.